oggi è un giorno storico per tutti noi per la nostra banca il nostro territorio le persone che vivono qui oggi è la prima volta che sediamo in assemblea insieme come parte di qualcosa di più grande il primo gruppo bancario cooperativo italiano solido vicino nostro un traguardo raggiunto insieme a chi come noi ha creduto in un'idea evolvere crescere credere nel nostro futuro oggi possiamo dirlo siamo orgogliosi di aver vinto la sfida rimanere noi stessi ma con una forza e una solidità nuove